Oggi si ufficializza la candidatura di Alessandro Battilocchio alle europee, quali sono i punti di maggiore importanza del programma? Innanzitutto portare nuovamente il nostro territorio in Europa. Ho avuto già l'opportunità di rappresentare quest'area a Bruxelles. Io credo che soprattutto in questa fase sia particolarmente importante garantire una connection, un link, un legame tra la nostra area territoriale di Roma Nord e le opportunità comunitarie. Quindi su questo mi metto al servizio della gente e ci metto nuovamente la faccia in una competizione difficile ma entusiasmante in cui io credo che nuovamente Civitavecchia e il suo comprensorio possono tornare protagoniste in ambito comunitario. Un battuto a riguardo anche dal candidato al sindaco Andrea D'Angelo? Sì, ho preso un grandissima soddisfazione nonostante qualche difficoltà delle ultime ore per la candidatura di Alessandro Battilocchio. Quindi insieme faremo questa competizione elettorale, lui per ritornare in Europa, io per arrivare a Palazzo del Pincio. Quindi il segnale di grande forza che dovremo dare per creare questo collegamento, come diceva Alessandro, tra la città di Civitavecchia e l'Europa. Quindi grande soddisfazione, grande lavoro ci aspetta ma lo affronteremo con grande entusiasmo come al solito.